Benvenuti a Casa Italia, seguitemi! In Casa Italia abbiamo molti pezzi d'art, quindi tutto viene dall'Italia, e gli artisti italiani che sono molto famosi in Italia portano con noi tutta la nostra storia e proviamo a combinarlo con il stile di japano e la storia di japano. Non c'è un po' di persone, ma non c'è un po' di persone, quindi è un po' meno facile, ma è importante essere qui ora e sentire un altro messaggio che possiamo continuare.